andando ad ampliare ulteriormente il già vastissimo ventaglio di settori in cui è presente anzi a tale proposito ti lascio qui sotto in descrizione il link ad alcuni video di approfondimento dedicati a una parte di questi servizi amazon ha recentemente annunciato il lancio anche in italia così come in altri paesi europei di amazon prime video channels che sulla falsa riga di quanto già avviene con la musica con prime music che è gratuita per gli abbonati prime e il più esteso catalogo di prime music unlimited per chi decide invece di sottoscrivere un abbonamento ulteriore a parte estende ulteriormente la già ricca offerta di intrattenimento in streaming offerto dal colosso di seattle in sostanza in più rispetto a quanto offerto da prime video i cui contenuti sono naturalmente disponibili anche per chi opta per questo servizio aggiuntivo prime video channels mette a disposizione tutta una serie di contenuti tematici che vanno dallo sport alla musica classica jazz passando per i cortometraggi e film horror o i grandi classici proposti da una selezione di canali in cui ci si può abbonare singolarmente con costi variabili fra i 2,99 e 9,99 euro al mese al momento del lancio sono 11 canali disponibili ovvero infinite selection con una selezione di grande cinema italiano ed internazionale stars play con serie originali stars e i grandi successi di hollywood nogging per imparare con i personaggi di nick jr juventus tv per seguire le gesta della squadra campione d'italia movie con una selezione di cinema d'autore raro video con film di nicchia che sono meritevoli di riscoperta midnight factory con una selezione di horror full moon per chi preferisce thriller i film di azione l'adrenalina in sostanza short tv per addentrarsi nel mondo dei lungometraggi che lo concert di stingray con una vasta selezione di concerti e mezzo con le migliori proposte di musica classica jazz e dance ma non è ancora finita qui perché nello store prime video channels propone a noleggio e in vendita una vasta selezione di film di ogni genere si spazia da grandi classici a blockbuster più recenti come joker me contro te il film jumanji the next level trolls world tour it 2 e tanti altri ancora una vasta scelta fruibile oltre che naturalmente da tutti i dispositivi fire tv anche dai dispositivi mobili ios e android dai lettori multimediali e dalle console di gioco tutti gli abbonamenti prime video non hanno vincoli quindi possono venire annullati in qualunque momento ma per darti modo di testare servizio e solo in un secondo tempo valutare se fa o meno per te amazon ti offre anche un mese di prova gratuito per usufruire del mese di prova non devi fare altro che scorrere appena sotto questo video nella descrizione ti ho lasciato il link per poter attivare il mese di prova gratuito